la vendita a distanza ha un limite grande e visibile che è quello di non poter vedere il prodotto dal vivo come presenti i tuoi prodotti è una variabile che va ad incidere drasticamente sulla vendita quale di queste due foto ti emoziona di più alla fine sono sempre due candele ma il primo ne vende tante ma veramente tante a oltre 25 dollari il secondo non credo che ci abbia messo su un business da 20 milioni ovviamente non solo per come presente i prodotti ma per il suo modello di business ma l'emozionalità delle foto e dei loro video gioca un ruolo molto importante ricorda bene che le foto e di video sono solo una parte della creazione di un catalogo prodotti che vende devi creare informazioni e contenuti intorno ai tuoi prodotti per esempio per ogni prodotto associare degli attributi che poi diventeranno filtrabili all'interno della navigazione ma anche produrre video opzioni configurabili descrizioni che vendono approfondimenti guida le taglie domande risposte bundle tutorial ed altre 15 20 attività che ora non ti vado ad approfondire perché l'argomento è davvero molto molto lungo ma quello che ti voglio passare come concetto è che non devi prendere sotto gamba la costruzione realizzazione di un catalogo veramente completo a livello di informazioni non devi pensare solo al sito quando parlo di catalogo dei tuoi prodotti perché ci sono anche tanti altri canali di marketing che andranno poi a promuovere il catalogo e se presenti male i tuoi prodotti non saranno poi così accantivanti le tue pubblicità purtroppo oggi e capisco bene lo vivo anche in prima persona tanti fornitori hanno dei cataloghi nati per il retail o per dare in mano agli agenti di commercio la rete vendita e spesso se sei un rivenditore ti trovi in mano davvero un catalogo passami il termine che fa pena quindi quello che non fa il fornitore lo devi fare tu per la seo per gli utenti ma soprattutto per vendere di più Grazie a tutti.